Io sono arrivato a questo punto perché davvero non se ne può, non se ne può più, di tante cose non se ne può più. Vorrei rivolgermi al commissario di dire non ce la facciamo più. Pochi giorni fa mi sono rivolto, come sempre mi rivolgo a Voci di Strada, l'unica che mi ascolta e la sincera verità mi ha risposto greco, ma non ha risposto a me, ha risposto nel senso la dinamica. Siamo arrivati a tre mesi di mensilità come sempre, sempre, mai una volta uno stipendio pagato eppure la mattina scendiamo a lavorare. Persone che hanno delle problematiche, noi siamo dei contadini, il mangiare sulla tavola non manca. Se vuoi ammaturnare o dimbrare la candela, per l'amor di Dio, non paghiamo le bollette e va bene così. Non mettiamo la benzina in macchina e va bene così. Io, signore mio, figli non ne ho, i miei colleghi ce l'hanno e hanno anche altre problematiche. Vi chiedete pure, ma questa perché si lamenta solo lei? Ma io mi lamento solo io che più avanti si lamenteranno anche gli altri. O volete che mettiamo le catene e veniamo sotto al comune e ci leghiamo sotto i pilastri? Volemmo arrivare a questo? Volemmo arrivare che chiediamo a mostricciare la notizia? Che dobbiamo fare? Fammi capire. Maccamo veramente per prendermi il mio stipendio? Io devo fare tutto questo bordello? È una vergogna, è una vergogna con la pandemia che ci sta in giro? Qua io non ce la faccio più. Mi sto andando fuori di testa che la mattina scendo a lavorare e alla fine non vengo ritribuita. Ma no! Questo mese siamo la bellezza di due anni e mezzo. E io mi rivolgo al commissario con il cuore in mano, commissario, pigliato provvedimento. Non voglio aspettare nemmeno un giorno di più, nemmeno un giorno di meno voglio aspettare. Sono l'unica trans del paese, della regione di qua, di mattinella. Ho delle grandi problematiche come ce l'hanno i miei colleghi. Io oggi metto il mio nome in mezzo, bell'omo tiziana di quello che sia. Però non esiste che la mia sofferenza deve andare oltre i limiti. Ho 50 anni, scendo la mattina per cercarmi di realizzarmi, non per pettinare le bambole e non mettere i bigodini. A noi delle problematiche cooperativa, comune, non ce ne interessano. La cosa che ci interessano a fine mese ci devono pagare. Ok? Da cittadina mi sono stufata. Sono due a qua. Non parliamo di questo periodo. Qua parliamo di due anni e mezzo. Due anni e mezzo di sofferenza. Due anni e mezzo. C'è da fatto fare male Natale, male Pasqua. Ma che vede che vate in capo? Fatemi capire. Ma che cosa vi do? Ma con quale coraggio? La sera vi mette da tavola con la famiglia e mangiate. Con quale coraggio? Andate ad un ristorante a mangiarvi una pizza e ci stanno delle persone che devono essere ritribuite. Con quale coraggio? Io il coraggio ce l'ho di dirvi questo. Ma voi avete coraggio di prendere provvedimento e di pagarci? Ve lo dico con il cuore. Non fateci aspettare. Perché non voglio andare più nel cabario. Io non ce la faccio più. Oggi è sabato. Domani è domenica. Non è che abbiamo un lusso spaccettato. Spizzi non ce ne stanno nella vita. Dice ma però i mal di testa sono tanti. Esse sono tanti accumulati. Tanti uno sull'altro. E io mi chiedo col cuore in mano, signor Commissario, prendete provvedimento a fatici pagare, a fatici percepire il nostro stipendio, i nostri sacrifici. Non vogliamo sacrifici degli altri. I nostri sacrifici. Ho detto questo con lo sfogo. Vorrei assicurare che nei miei confronti prenderanno anche dei cattivi provvedimenti. Però non mi interessa. Ho messo la mia faccia e la mia persona. Poi il resto va bene così. Io credo in voi, signor Commissario, di prendere provvedimento per farci pagare. Ve lo chiedo. Non so come devo chiederlo. Io non voglio limosinare il mio stipendio. Però ve lo chiedo con il cuore.